Anche il sindaco di Popoli, Concezio Galli, è convinto che per salvare il nostro comiti sul Mona Popoli e Castel di Sangro bisogna arrivare a un'asla unica che porti un ampliamento del bacino di utenza alla luce del decreto Lorenzin. Lo ha ribadito lo stesso primo cittadino ieri ad Ondatigino, occasione della prima edizione della giostra cavaleresca dei comuni. L'assessore Silvio Paolucci ha dato l'ok per i due interventi previsti per il nostro ospedale, ricorda Galli, ma al di là delle rassicurazioni dell'assessore, qui ci vuole un nuovo progetto di rilancio per evitare il depotenziamento della struttura ospedaliera, tuone primo cittadino. Fermo restando quello che dice l'assessore e l'importanza di quando da lui ha fermato, però è chiaro che noi, anche alla luce di quelli che saranno i prossimi sviluppi, ad esempio del decreto Lorenzin, necessariamente dobbiamo sviluppare un progetto nuovo insieme a Sulmoni e a Castel di Sangro. Galli sostiene che il piano salvo ospedale è proprio quello dell'asla unica, come ribadito più volte dal sindaco di Sulmona, Peppino Ranalli. Si tratta di una soluzione che permetterebbe ai treno socomi di essere collegati. Io ho partecipato già a diversi incontri, sta nascendo, ripeto, un discorso importante da questo punto di vista, dobbiamo trasformare queste idee in proposte concrete. In questo momento ci dobbiamo mettere in testa che se vogliamo salvarci, da soli non si va da nessuna parte, ha aggiunto Concezio Galli. Oggi da soli non si va più da nessuna parte. Grazie.